Si chiama Start Export ed è il progetto a cui è aderito la Camera di Commercio per offrire gratuitamente alle imprese gli strumenti necessari per poter iniziare proficuamente il commercio di prodotti agroalimentari in mercati esteri. Consta in tre giornate di formazione ed altrettante di audit presso le aziende partecipanti. L'iniziativa ha già riscontrato un grande successo, tanto è l'alto numero di adesioni ricevute che ha comportato il veloce esaurimento dei posti disponibili. Ad oggi 22 sono le richieste già raccolte. L'inizio è previsto per il 18 febbraio. Gli unici segnali positivi nell'ultimo trimestre del 2013 sono stati quelli volti all'export. Quindi noi stiamo sostenendo non soltanto il turismo nel nostro territorio, quindi il terziario fondamentalmente, ma anche tutte quelle aziende che sono vocate all'export. E stiamo incoraggiando, con questo progetto che si chiama Start Export, stiamo incoraggiando nello specifico le aziende agroalimentari a rivolgersi nel mercato estero. Quindi mettiamo a disposizione tutta una serie di strumenti gratuitamente per aiutare e sostenere le aziende a promuovere i propri prodotti nel mercato globale.